Per Powerwalli TV siamo con coach Maranesi a pochissimi giorni dalla sfida con Bergamo una sfida forse non fondamentale, importante ma non ancora fondamentale perché insomma la classifica permetterebbe un piccolo passo falso Sì, allora secondo me è una sfida che conta per capire chi arriverà secondo probabilmente non dirà chi sarà la terza squadra però sicuramente dirà chi arriverà secondo nel senso che se dovesse vincere Bergamo a questo punto credo che il secondo posto sia assolutamente loro diversamente dovessimo passare noi a Bergamo a questo punto porteremo avanti le ultime quattro partite con la speranza di raggiungere il secondo posto Bergamo in casa ha perso due sole partite, ha concesso in tutto nove set però queste due partite le ha perse con squadre di alta classifica lasciamo stare Cantù che ammazza il campionato però ha perso con Genova quindi insomma in casa si può battere se si è forte, Milano forte lo è Sì, insomma noi d'altra parte messa all'incontrario noi ad oggi l'unico scontro diretto con le prime della classe è con Genova da noi per cui bisogna capire se valiamo questa classifica dobbiamo cominciare a fare qualche colpo anche di quelli che contano quello di Bergamo è proprio uno di quelli il colpo di quelli che contano perché è uno scontro diretto fuori casa qui all'andata noi abbiamo giocato non una buona partita però era forse il periodo peggiore della nostra squadra sicuramente oggi siamo una squadra diversa diversa nei contenuti, nel senso che diversi sono alcuni giocatori importanti è anche diversa come spirito per cui si può andare a Bergamo e provare a fare la partita all'andata la differenza tra gli altri la fece Sbrolla che vinse il confronto diretto a distanza con Moro oggi c'è, Ardu è sempre Sbrolla al pericolo numero uno o Bergamo ha altre minacce? secondo me è il giocatore di riferimento è il giocatore che fa fare a quella squadra che è una buona squadra il salto di qualità per diventare un'ottima squadra è un palleggiatore che tecnicamente a me piace molto io l'ho conosciuto quest'anno, l'ho visto quest'anno ed è un giocatore moderno che prende la palla a un'ottima altezza gioca rapido, insomma è un palleggiatore moderno sicuramente anche il nostro palleggiatore è un ottimo palleggiatore per cui in questo senso siamo competitivi quali sono i punti del piano partita che sta elaborando insieme alla squadra? allora Bergamo è una squadra che sbaglia poco magari non fa tantissime cose però quelle che fa le fa bene con un'efficienza alta cioè con un basso numero di errori sicuramente se noi vorremmo fare partita contro questo avversario dovremo uniformarci a questo basso numero di errori in particolare nel fondamentale del servizio i numeri ci dicono che poi su quello che riguarda la ricezione e l'attacco sia di cambio palla che di contrattacco le due squadre sono molto molto vicine nel senso che ci sono numeri addirittura quasi sovrapponibili per cui credo che il numero di errori in particolare nel fondamentale del servizio sarà il lago della bilancia della sfida grazie grazie grazie